Grazie innanzitutto di essere qui con me. Grazie a te. Ti va di raccontarmi il tuo personaggio in Doubt Desk che esce dal 4 maggio al cinema ed è una storia bella intensa, molto forte. Doubt Desk è un film molto intenso, comunque ha dei risvolti anche belli crudi, belli tosti ed è un revenge movie al femminile. È una storia che vuole raccontare anche di violenza di genere, che vuole denunciare in modo molto diverso dalla classica modalità questo tema e lo fa con un linguaggio anche estremamente contemporaneo, tra e spunto da purtroppo fatti realmente accaduti e poi si muove, si dipana su una linea invece narrativa più di fantasia in qualche modo. Però, ahimè, è molto verosimile, quindi è qualcosa che lascia perplessi. È un film molto interessante da questo punto di vista, il mio ruolo è Emanuele. Sono estremamente grata ai registi e ai produttori di avermi voluto affidare questo ruolo perché è stata una bella esperienza, una bella sfida, un ruolo molto ambivalente. È una donna, è una scrittrice di successo innanzitutto, una donna molto intelligente e usa la sua bellezza come, proprio veramente come arma di seduzione, nel vero senso della parola. E però nasconde anche un forte dolore, una grande ferita e di conseguenza anche una grande rabbia e decide di farsi giustizia da sé a un certo punto. Quindi tirerà fuori tutta la sua astuzia per tessere al meglio le trame della sua vendetta. Non aggiungo altro naturalmente perché aspettiamo quanto più pubblico possibile in sala, visto che finalmente possiamo vedere nuovamente i film in sala, quindi il mio invito è sempre quello di frequentare la sala cinematografica innanzitutto perché ovviamente è un'esperienza diversa, sia personale sia collettiva. Cos'è che ti ha affascinato nell'interpretare questo ruolo? Cioè c'è un qualcosa, c'è stato un momento magari, viene a dire quasi di sfida per te nell'interpretarlo, nel confrontarti? Allora diciamo che ci sono stati dei pezzi di Emanuele da affrontare belli tosti che sono quelli appunto riguardanti la vendetta perché comunque quando si dice tra il dire e il fare ecco lei agisce anche ed è però una che agisce perché ci si ritrova, perché è costretta dal suo dolore, non lo sa gestire diversamente, vuole vendetta. La vendetta è sempre un atto violento quindi interpretarlo non è stato così banale, insomma scontato, è stata una bella occasione per veramente scardinare un personaggio e vedere anche i lati più oscuri, quelli che di solito si vanno a nascondere o in qualche modo anche spero a mitigare. E lei invece insomma ci va dentro con entrambi i piedi, quindi io con lei ed è stato bello intenso, interessante, un viaggio in qualche modo catartico. Sicuramente ho dato apertura e sfogo a quella rabbia, a quella frustrazione che penso di non avere solo io ma avere, cioè in generale rispetto alle ingiustizie, rispetto a quello che le donne in generale vivono fin troppo spesso ancora oggi, quindi è una donna che vendica tutte le donne, non solo quello che verrà fuori dalla trama del film. Quindi per me è stata veramente una bella occasione, un'esperienza per attraversare questi sentimenti che poi insomma nella vita normale poi uno si spera insomma va dal terapeuta, elabora, riesce a trovare altre modalità di risposta. Però è interessante perché questo film si pone proprio su quel confine, non vuole giudicare, anzi chiama lo spettatore in causa e dire fino a che punto è giustificato una persona reagire perché è vittima e fino a che punto uno è vittima e l'altro carnefice dov'è la soglia su cui ci si muove. Quindi questo personaggio che si muove proprio lì diventa per me un'occasione interessante, sono momenti in cui è estremamente forte e coraggiosa, altri in cui spunta la fragilità anche di chi magari non ha mai agito in quel modo, che non ha di mistichezza con certe cose ma si ritrova a farle e c'è una parte che non vorrebbe, una parte, ci sono stati dei momenti in cui invece quasi prova piacere in qualche modo. C'è il gioco sadico anche che entra in ballo e quindi insomma le dinamiche sono tante, Emanuele mi ha fatto attraversare tanto, quindi come dirti che non mi lascerà molto, mi lascia tantissimo e mi ha anche liberata in qualche modo, nel senso che attraversare questi personaggi ti aiuta ad elaborare delle parti che ripeto a volte uno nega o elabora diversamente. Questo è anche una bellissima occasione che l'arte dà in generale e il cinema, il mio lavoro come attrice che amo tantissimo e che mi dà anche queste opportunità. Emanuele è una donna veramente stratificata, complessa e forte allo stesso tempo ma che insomma arriva ad essere forte per certi versi da tante fragilità. C'è un personaggio che proprio invece ti piacerebbe, insomma metti lì e dici ok nel mio percorso, nella mia carriera vorrei arrivare a interpretare quello, quella tipologia lì. Guarda, ti dico, nell'ultimi due o tre anni mi sto divertendo parecchio perché a teatro ad esempio ho dato spazio a un personaggio completamente diverso da me, sono la papessa, la papessa Giovanna, metà tra storia e leggenda e in scena mi permetto di essere un uomo, mi trasformo, cioè tutta un'altra roba. E ad esempio lì è stato bellissimo, completamente diverso il lavoro da Emanuele che comunque appunto utilizza delle corde completamente differenti. In generale mi piace sperimentare, quindi mi piacerebbe fare un altro ruolo da cattiva, devo dire, cioè ancora più cattiva. Mi diverte molto perché io sono una persona estremamente solare, sempre soridente, le possette eccetera, ma la parte anche invece più oscura mi attrae molto, forse per contro perché nella mia vita la sento meno. E quindi mi piacciono un po' i personaggi ombrosi. Al tempo stesso ora è un po' che non interpreto invece ruoli divertenti di commedia che a volte mi hanno sorpresa piacevolmente perché spesso si dice anche i personaggi più brillanti nascondono poi le loro sfumature. Quindi in realtà non c'è una tipologia specifica, mi piacerebbe tantissimo fare la supereroina, cioè per dire le cose più disparate, ecco quello mi diverte, mi diverte misurarmi con le cose nuove, con le cose più lontane da me anche in qualche modo. Sono stata alla Valletta del Mago Carmelo, l'Ostrini Paillette dappertutto ed era divertentissimo, era in Bang Bang Baby, ma appunto poi c'è Emanuele, poi c'è la Papessa, ora sto facendo, sto mettendo in piedi un nuovo spettacolo, si chiama L'Imperatrice, dal prossimo anno sarà in scena e lì sono la Contessa di Castiglione, quindi altro personaggione completamente diverso, siamo in fine ottocento. Quindi insomma veramente mi piace esplorare e quindi la cosa che spero, che mi auguro è che io riesca sempre a divertirmi, a sorprendermi con i ruoli che mi vengono proposti, a riuscire a scavare in qualche modo sempre dentro di loro e a scoprire cose così anche di me.